Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Stimeoni, sempre con la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo, la seconda parte che va in onda alle ore 19. Questa trasmissione che dovevamo leggere ciò che porta a diventare terni nella religione romana, invece cambiamo argomento perché voglio fare un confronto fra quello che è il pensiero pagano come noi lo stiamo sviluppando, con il pensiero pagano antico che fu l'ultimo pensiero pagano, il pensiero dei neoplatonici, con il quale abbiamo molte relazioni in comune, però nello stesso tempo molte distanze. Perché questo? Perché tutto sommato noi ci riferiamo al paganesimo come sentire, all'essenza del paganesimo. Non ci riferiamo assolutamente come paganesimo filosofico, o meglio, esisteva una filosofia nata dal paganesimo per descrivere quello che è il mondo, ma nell'ultimo paganesimo è diventato un disquisire sui problemi pagani e non uno sviluppo del paganesimo. Il primo concetto che andiamo a vedere del paganesimo, allora praticamente cos'è che faccio in questa trasmissione? Ricordi che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan, Otto Margherano, cioè questo è il mio indirizzo. In questa trasmissione confronto alcuni punti del pensiero, cioè il pensiero che sto sviluppando attraverso questa radio, attraverso Costruendo, con l'ultimo pensiero del paganesimo di Procolo. Chi è Procolo? Procolo è l'ultimo grande sistemista del paganesimo, del neoplatonismo. Dice Marino, che è un suo allievo, che scrive la vita di Procolo, che quando Procolo da Alessandra d'Egitto andò finalmente il suo sogno, arrivare ad Atene a studiare all'Accademia, bene, quando arrivò all'Accademia si stava facendo sera, però decise comunque di salire fino all'Accademia. Strada facendo incontrò il custode che gli disse, se tu non fossi arrivato io avrei chiuso. Ora, nella teurgia, nella percezione del divino, esistono dei segnali che ci danno il senso dell'universo, piccoli segnali quotidiani che ci danno il senso dell'universo. E quel segnale fu interpretato da Marino, che se Procolo non fosse arrivato a reggere l'Accademia, perché alla fine della retta lui, l'Accademia avrebbe chiuso. E in effetti, dopo Marino e pochi anni dopo, Procolo fate conto, muore nel 485, e praticamente nel 529 Giustiniano, il cristiano, chiude l'Accademia e proibisce ai pagani di insegnare. Per cui effettivamente quel messaggio era, se non arrivava un grande a sostenere l'Accademia, cioè a far da lettore all'Accademia, l'Accademia avrebbe perso la sua forza, avrebbe perso il suo potere e avrebbe chiuso. Questo è Procolo. Procolo, come tutto il neoplatonismo, affronta le sue disquisizioni filosofiche, innanzitutto non è uno stregone. Procolo non è un'apprendizia stregone, però ha delle pratiche ascesi estremamente forti. Ha un'energia mentale, una capacità di disquisizione, una capacità di analisi delle cose che è letteralmente eccezionale. Tanto eccezionale che fate conto che a quei tempi i testi di Aristotele, lui se li legge credo in due anni, cioè in due anni studia tutto Aristotele, che per quei tempi e in quelle condizioni e a quei livelli di studio, perché non si tratta di leggersi le basse, si tratta proprio di fare delle vere e proprie analisi passo per passo, è stato veramente un lavoro eccezionale. Per cui è effettivamente un personaggio eccezionale. Come del resto tutti gli accademici di Atene erano eccezionali. Anche se io sono d'accordo con i preti egiziani dicendo che la filosofia greca era estremamente infantile, perché non andava al di là delle disquisizioni della ragione. Per cui sono d'accordo con gli egiziani da questo punto di vista. Bene, Procolo cos'è che fa in pratica? Prende il platonismo, prende i lavori di Platone, i vecchi lavori di Platone, e li coniuga con quelli che sono due cose fondamentali, gli iniorfici e gli oracoli caldaici. E' quella che è la teurgia che nasce da Giamblicco, cioè il lavoro del teurgo. Il teurgo è la capacità magica di far intervenire il Dio, far intervenire il Divino nell'operazione di tutti i giorni. E questo lo vedremo proprio in questa trasmissione, sempre che avrò tempo di portarla fino a termine. Vorrei esaurire tutto quanto in questa trasmissione perché io ho ricevuto questo libro e faccio conto il 16 maggio. Me lo sono divorato in quattro giorni e già il quinto giorno voglio fare un confronto, un paragone fra due sistemi filosofici. Alcune cose dei sistemi chiaramente non pretendo molto, però è importantissimo dal mio punto di vista per comprendere le differenze che c'è fra quello che stiamo dicendo noi per la costruzione del paganesimo e l'ultimo paganesimo dotto che noi riconosciamo solo in minima misura proprio perché in pratica, in ultima analisi, ha fornito al cristianesimo e al cattolicesimo gli strumenti per dare una definizione diversa da quello che è l'orrore cattolico, l'orrore del Dio biblico, l'orrore del pazzo di Nazareth. Naturalmente non prenderò telefonate, almeno finché non faccio questo e non so se l'ora mi basterà per farlo. Allora il concetto primo che andiamo a vedere è l'uno come sommo bene, cioè il concetto di uno come sommo bene è un concetto platonico, un concetto platonico che viene ripreso da quello che è da Proclo e viene usato da Proclo alla base di tutta la filosofia. Cos'è successo? È successo che Proclo deve analizzare gli oracoli caldaici ma non ha la visione di chi ha scritto gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici erano scritti da Giuliano il Teurgo, figlio di Giuliano il Caldeo, viceversa, non è importante storicamente a precisione e loro erano degli stragoni, cioè loro avevano la capacità di alterare la percezione mentre questa capacità non ce l'ha Proclo. E Proclo però lo fa da filosofo, cioè lo fa da dotto, lo fa da sapiente cioè nel senso che la sua conoscenza è vastissima. Però il significato delle parole che dà un apprendista stragone a quello che percepisce in percezione alterata non è lo stesso significato delle parole che viene dato da un dotto da un filosofo. Perché? Perché le parole che usa un apprendista stragone in percezione alterata sono degli adattamenti, sono delle similitudini che la ragione trova nella vita di tutti i giorni rispetto alle sensazioni, rispetto a quello che riceve in percezione alterata. Per cui c'è sempre un equilibrio e una fortissima ambiguità. Per cui le parole che hanno usato Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo non hanno lo stesso significato che ha Proclo. Per avere lo stesso significato è necessario alterare la percezione e andare a vederci, sì, in percezione alterata, cosa significavano, cosa hanno visto o cosa potevano aver visto. Perché anche questo è importante. Non si ha mai la stessa visione perché la soggettività va a leggere la visione in maniera diversa. Però ciò che dalla visione sollecita la percezione, sollecita il soggetto che va ad alterare la percezione è lo stesso. E allora cosa fa a questo punto? L'individuo altera la percezione e riceve delle sollecitazioni. Dalle sollecitazioni che riceve può immaginare e può mettere in parallelo il significato che quella persona voleva dare a quel termine. Ecco, questo è quello che può fare un apprendista a stregone. Naturalmente questo non lo può fare un filosofo, non lo può fare uno studioso. Uno studioso può soltanto lavorare sui termini, lavorare sul significato, ma non può costruire una significazione diversa alle parole. E vediamo l'uno come sommo bene. Il termine uno, cioè l'uno che genera l'inizio dello spazio e del tempo, è un termine che viene usato da Platone, cioè fa parte del platonismo. E perché come sommo bene? Perché nella filosofia neoplatonica il bene è ciò a cui tutte le coscienze, tutti gli esseri, tutti gli individui tendono. Se voi vi ricordate quando io vi ho letto il libro dell'Anticristo, parlando del bene e del male, ho detto due cose. Cioè ho detto del bene, è quasi inutile parlare, il bene è. Cosa è il bene? È la vita senza ostacoli. Cioè è la vita che ha il suo proseguimento, ha le sue contraddizioni, ma le contraddizioni che affrontiamo nella vita non sono tali da distruggere le trasformazioni della vita stessa. Cioè una contraddizione io l'affronto, io la sfido, mi trasformo, mi modifico, ma quella contraddizione non comporta degli ostacoli, cioè non è presente degli ostacoli che uccidono la mia trasformazione, mi sottomettono, mi mettono in ginocchio, eccetera. E questo concetto c'è anche nella filosofia procoliana. Perché questo? Perché quando parla del male, identifica nel male il corpo fisico, cioè la vita fisica è male, perché questo? Perché la vita fisica comporta degli ostacoli alla capacità dell'anima come percezione. Se noi mettiamo un uno all'inizio del tempo, diciamo che le anime, e dice Procrono, diciamo, Procrono dice che le anime sono generate dall'uno e ritornano all'uno perché l'uno è il sommo bene. Ma se l'anima è generata dall'uno, l'anima non si costruisce, l'anima non si modifica, cioè tutto quello che è la percezione del corpo di energia non ha delle trasformazioni. Allora, in quel momento, cosa significa? Che l'anima di una persona, o l'anima di un individuo, anche di un essere della natura, ma parliamo di un individuo, anche nel bambino e nell'uomo adulto, ha la stessa quantità, le stesse possibilità, le stesse determinazioni, che però vengono ristrette dal fatto che quest'anima vive in un corpo fisico. Allora, che cos'è il male per la filosofia procoliana? Il male per la filosofia procoliana è rappresentato anche dalla vita fisica, la quale rappresenta un intoppo degli ostacoli alla capacità dell'anima di percepire il mondo, di percepire il sommo bene. Allora, anche in Procolo, noi abbiamo che ciò che impedisce la percezione, cioè gli ostacoli che impediscono la percezione, sono il male. Per cui il concetto di male nostro e di Procolo è lo stesso. è diverso nell'inserimento della struttura dottrinale. Perché? Perché per Procolo c'è il sommo bene, il Dio come sommo bene, o l'essere, l'assoluto, chiamatelo come volete, la stessa cosa. Mentre invece nella nostra filosofia non c'è questo. Infatti, dice, tutto ciò che ha la capacità di produrre altro è superiore alla natura di ciò che è prodotto. Infatti, è superiore o inferiore o uguale. Supponiamo dapprima che sia uguale, in tal caso, ciò che è prodotto da esso e ha anch'esso la potenza di produrre qualcos'altro o è assolutamente infecondo. Ma nel caso che fosse infecondo, proprio per questo fatto risulterebbe inferiore a ciò che lo produce e in quanto privo di capacità produttiva. Non sarebbe uguale a quello che è fecondo e ha potere di creare. Per cui, in questo passo che vi ho letto, che è dall'Elementi di Teologia di Procolo, si capisce bene come ci sia una generazione, una produzione, una produzione di coscienze, di esseri, per cui dall'Uno nasce l'anima. Ma questo non esiste nella filosofia che io vi ho esposto. Perché non esiste un Uno che genera. Ma l'Uno che genera non è che uno dice semplicemente non esiste il Dio creatore. No. Non esiste perché si può andare a vedere, cioè si può attraverso la disciplina, attraverso l'alterazione della percezione andare all'inizio del tempo e alla fine del tempo. sono le due cose che un apprendista stregone deve raggiungere. E all'inizio del tempo non esiste nessuna forza generatrice. Non esiste nessuna forza generatrice. Allora, si tratta di risolvere però ciò che ci circonda, cioè si tratta di risolvere il presente. E allora, dov'è la forza generatrice? La forza generatrice è negli oggetti che sono presenti, è nella materia e nell'energia vitale. Cioè, la forza che genera, la forza che genera la trasformazione dall'inconscio al cosciente è nelle cose che ci circondano. Non è in una generazione una volontà che sta ad a priori. Allora, a quel punto, Proclo è costretto a fare una divisione triadica. Perché? Perché scopre che esiste un movimento e esistono delle trasformazioni. ma perché esiste quel movimento e esiste quelle trasformazioni? Qui Proclo non lo scopre. E nella divisione triadica, vediamo un attimo a pagina 104, La dottrina di Genesi Plutiniana portata ad estreme conseguenze da Proclo. Anche questa legge, così come la precedente, e perfino in senso più marcato che governa la generazione di tutte le cose, costituisce un'asse portante della metafisica di Proclo veramente basilare. E questo è stato riconosciuto da tutti gli interpreti. La produzione generale e particolare di tutte le realtà è determinata da un processo circolare che si scandisce in tre momenti, manenza o permanenza, processione e ritorno o conversione. Il primo momento consiste nel permanere del principio in semedesimo senza diminuire. Il secondo implica invece l'uscita dal principio e il terzo implica il ritornare al principio, ossia il ricongiungersi del principiato del principiato al principio. Questa legge triadica che Proclo ha individuato, lui dice c'è questo movimento, ma non individua perché avviene questo movimento, che senso ha questo movimento e cosa comporta l'arrivare a questo movimento. Dov'è l'inghippo che non esiste nel neoplatonismo, nella filosofia neoplatonica? Prima di tutto, il considerare l'uno come assoluto è il primo errore che viene fatto. È un errore concettuale che va a costringere le persone a pensare solo e solamente in quella dimensione. Ma quando si dice uno, quando si dice l'assoluto, non si dice cosa si intende per assoluto. Per esempio, l'energia vitale è la base di tutto quello che esiste al di là che noi lo percepiamo o non lo percepiamo. Allora, tutto quello che esiste è composto dall'energia vitale. Potremmo dire che l'energia vitale è l'assoluto, ma non è vero perché l'energia vitale non ha coscienza, non ha consapevolezza in sé, però ha le forze per costruire la consapevolezza. Ora, se io dico che l'energia vitale è l'assoluto, è il tutto, perché individuo che qualsiasi cosa esistente è composta di energia vitale, devo necessariamente affermare che l'energia vitale non è il tutto, non è l'assoluto perché non ha coscienza né consapevolezza di sé stessa. E i movimenti interni all'energia vitale portano il passaggio dall'incosciente al cosciente. abbiamo effettivamente una processione ma dove sta la conversione? Dove sta il ritorno? E allora abbiamo un'altra visione ancora ed è la costruzione della coscienza universale alla fine del tempo. Allora abbiamo un movimento che va dall'energia vitale costruisce la coscienza va a costruire la coscienza universale. Allora io ho davvero un'amanenza dell'energia vitale che però è inconscia ho davvero una processione che costruisce la coscienza ho davvero un processo di costruzione della coscienza e ho davvero la costruzione della coscienza universale che proprio perché la coscienza universale è tutta l'energia vitale è trasformata in coscienza ma allora i passaggi sono più logici sono estremamente più logici perché non ho il ritorno all'uno che è cosciente non ho un assoluto cosciente consapevole ma ho delle trasformazioni e ho anche il perché c'è il processo di processione c'è il processo di trasformazione c'è il processo di accumulo e di dilatazione da parte di ogni coscienza di sé e questo va a risolvere questo enigma della filosofia procoliana che è anche nella filosofia platonica dunque noi abbiamo un passaggio dal cosciente all'inconscio al cosciente come movimento universale non come movimento degli oggetti è l'universo che dal cosciente distrugge se stesso col Big Bang se vi piace parlare in termini scientifici distrugge non la propria energia vitale non distrugge necessità e intento non distrugge le proprie qualità ma distrugge la propria coscienza e abbiamo allora dal cosciente passa l'inconscio e passa il cosciente ricordate nel libro dell'anticristo il primo capitolo l'universo l'universo fu consapevole di se stesso ogni molecola era consapevole dell'intero universo e l'intero universo era consapevole della più piccola molecola pertanto cominciò il viaggio di ritorno perché solo in quel momento poteva ricostruire la coscienza universale non poteva fermare l'energia vitale non poteva fermare i flussi non poteva fermare necessità e allora usò la propria volontà per compattarsi e per riesplodere questo è il concetto fondamentale del paganesimo allora cosa abbiamo questo e però Procro sa perfettamente che il mondo è fatto da dei è fatto da divinità ogni volta che altra la percezione ogni volta che qualcuno altra la percezione si trova immerso negli dei e già questo discorso l'aveva tentato di affrontarlo Platone il mondo delle idee di Platone altro non è che il mondo degli dei gli mondi degli dei che interagiscono con gli esseri umani interagiscono con il loro pensiero interagiscono con le loro azioni ma il mondo delle idee di Platone a Procro non gli va molto bene molto a suo agio no? e allora costruisce qualcos'altro costruisce un sistema di Enadi lui anziché chiamarli 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 idee le chiama Enadi ma gli Enadi sono Dei vogliamo concludere dice il nostro discorso sul significato metafisico delle Enadi tracciando un elenco delle loro caratteristiche fondamentali che servirà a dare una visione complessiva della loro natura e del loro ruolo le Enadi sono unità infatti questo chiunque sa che il divino che ci circonda sono delle coscienze unitarie non sono parte di un divino più grande di un dio più grande ma sono delle coscienze unitarie come lo è l'essere umano come lo è qualsiasi essere della natura sono bontà cosa significa essere bontà cercano di sviluppare se stesse cercano di arrivare è il sommo bene rispetto a se stesse sono divinità cioè sono concentrazioni di energia vitale consapevoli di se stesse e qui cominciamo i casini sono al di sopra dell'essere e qua a noi ci puzza un pochino cioè noi non ci mettiamo in ginocchio davanti a una coscienza che ha un percorso diverso per sviluppare se stesse cioè esistono dei percorsi di sviluppo fatti da essere di solo energia esistono dei percorsi di sviluppo che sono quelli del pianeta esistono dei percorsi di sviluppo che sono quelli del bosco sono quelli degli animali sono quelli dell'essere natura sono gli infiniti percorsi di sviluppo delle infinite nature che esistono su un numero infinito di pianeti sono i percorsi di sviluppo dei pianeti stessi del sole dei soli delle stelle delle galassie per cui noi siamo consapevoli che esistono un'infinità di percorsi diversi da me ma attenzione io comprendo che sono diversi da me ma uguali a me cioè hanno le stesse tensioni e le stesse direzioni ma perché questo perché non ho costruito una gerarchia dell'uno che mi sta dietro com'è che risolveranno questo problema i cristiani i cristiani risolveranno il problema col dio creatore con gli angeli gli arcangeli e robaccia del genere ma io so benissimo che tutti gli dei che mi stanno attorno non sono altro che uguali a me al di là che se siano più grandi più piccoli più saputi meno saputi più antichi saranno anche infinitamente più antichi di me ma sono uguali le tensioni che ci attraversano sono le stesse i bisogni che ci attraversano sono le stesse e allora io non potrò mai dire sono al di sopra dell'essere ma io non ho una gerarchia sono al di sopra della vita ma io non intendo la vita semplicemente come un germinare della natura o dell'essere natura io intendo come vita l'intera espressione della coscienza di sé del dio qualunque sia la sua strada anche passare attraverso l'essere natura per cui non sono al di sopra della vita per me per Proclusi sono ineffabili e indicibili no sono sempre limitati perché questo perché sviluppano se stessi qualsiasi ente qualsiasi coscienza che sviluppa se stessa può essere immensa ai miei occhi ma non rispetto a se stessa in quanto ha altri spazi di sviluppo ha altre possibilità finché l'universo non diventerà cosciente di se stesso sono dotate di preconoscenza e questo non è vero perché la conoscenza la costruiscono attimo per attimo per essere dotate di preconoscenza devono essere emanazioni dell'uno e questo non esiste e ancora oh guarda che arriva il mio amico Franco adesso qua che adesso sono causa della misura delle cose e no sono le cose che misurano il potere il potere degli oggetti il potere degli dei viene misurato dalle cose e gli dei si misurano con le cose perché? perché gli dei sono una parte del tutto esattamente come noi siamo una parte del tutto sono infinite in potenza no non è vero non sono infinite in potenza hanno i loro bisogni i loro desideri e tentano di espandersi sono semplici alla base di ogni coscienza di sé c'è l'energia vitale l'energia vitale è l'elemento più semplice che esista nell'universo sono impassibili non è vero il fuoco degli dei quando li brucia dentro è peggio del fuoco degli uomini lo esprimono in maniera diversa lo esprimono con tensioni e desideri diversi ma il fuoco degli dei è il fuoco degli uomini la stessa cosa il fuoco degli esseri animali è la stessa cosa il fuoco del bosco è lo stesso per cui Franco mi dice di no ma il bosco pensa parla come pensano e parlano gli alberi ciao Franco ascoltami sono autocostituitisi e su questo sono d'accordo infatti ogni coscienza nasce da sé solo nell'essere natura ci sono dei genitori che danno delle possibilità a chi li viene dopo sono immateriali nell'essere natura no noi considerando gli esseri gli esseri divini come anche gli esseri della natura diciamo che gli esseri della natura pur essendo dei pur avendo tutte le possibilità di sviluppare se stessi fino all'infinito dei mutamenti sono materiali in questo momento sono incorruttibili e questo vale soltanto per alcune cose però possono essere corrotti cioè i flussi di energia vitale possono cessare e possono venire distrutti come vedete tutte queste qualità che noi abbiamo elencato delle enadi che è l'elenco delle qualità che vengono elencati agli dei alcune siamo d'accordo perché appartengono appartengono alla sostanza del vedere alla sostanza delle cose alla sostanza del divino su altre non siamo d'accordo perché perché per essere d'accordo su altre bisogna mettere a priori del nostro pensiero l'uno l'assoluto come sommo bene ma noi abbiamo detto che noi accettiamo il concetto di sommo bene inteso come possibilità dell'essere di svilupparsi nell'infinito dei mutamenti senza gli ostacoli in quanto il male sono gli ostacoli non accettiamo il discorso dell'uno perché l'unico assoluto che può essere visto attraverso l'alterazione della percezione è l'energia vitale e l'energia vitale pur essendo la base di ogni cosa esistente sia della materia che di tutto quello che esiste non è cosciente di se stessa se non quando diventa cosciente se non nei vari punti attraverso i quali diventa cosciente allora vediamoci un attimino un altro discorso un altro discorso del grande ternario un altro discorso che fa Proclo è un discorso sul grande ternario pagina 96 è importantissimo il discorso del grande ternario io vi ho parlato del grande ternario quando vi ho parlato del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo vediamo un attimino cosa ci dice sto ternario di Proclo il primo il primo grande asse portante della metafisica di Proclo è indubbiamente costituito da quello che è stato chiamato il ternario del limite dell'illimite e del misto il limite e l'illimite questo ternario è misto di limite e illimite questo ternario domina l'intero sistema a partire dalle realtà più elevate giù giù fino alla realtà corporee sensibili per capire questo punto del sistema occorre affrontare e risolvere soprattutto i seguenti due problemi bisogna comprendere in che senso questa triade sia ad un tempo una triade di ipostasi e una triade di principi o di leggi valide per tutta la realtà che cos'è l'ipostasi l'ipostasi è la sostanza immutabile sotto i fenomeni e oltre i fenomeni cioè se io ricevo un fenomeno quel fenomeno è relativo a una sostanza è relativo a una realtà bene ciò che è nascosto dietro al fenomeno è l'ipostasi oppure cioè se è una cosa reale in pratica dice se è una cosa reale oppure solo un'idea delle leggi dei principi astratti e dice inoltre bisogna tener conto della nuova interpretazione di Platone da parte della scuola di Tubinga che ha dimostrato come la tematica del limite dell'illimite del misto sia fondamentale nelle dottrine non scritte e quindi non sia dotata di una portata se è più vasta di quanto non lascerebbe supporre il solo filebo cui in passato ci si riferiva ora cos'è il limite l'illimite e il misto sono delle relazioni che vengono costruite per costruire se stessi ma se si costruisce se stessi e si costruisce la coscienza della propria anima tutto il discorso del grande eternario va letto in maniera diversa che cos'è una coscienza limite io per esempio sono una coscienza limitata i limiti della mia coscienza sono determinati dalla mia crescita che cos'è l'illimite l'illimite è tutto quanto mi circonda tutto quanto che mi circonda all'infinito è il mio illimite e che cos'è il misto il misto è la relazione che vado a costruire fra me e l'illimite affinché io possa espandermi nell'illimite dunque il soggetto limitato per la filosofia di Claudio Simeoni è un dio il limite è un dio il circostante è soggetto cioè un insieme di soggetti ed è soggetto a sua volta con cui costruisco la relazione ma la relazione in sé è una relazione divina ed è rappresenta il misto ma se io faccio questa relazione fra Claudio e Simeoni che è limitato e il mondo che lo circonda che è illimitato nella piccola parte in cui Claudio e Simeoni fa la relazione chiaramente ho una modificazione di Claudio e Simeoni e ho una modificazione del mondo con cui entro in relazione questa relazione ha un potere in sé stesso appare al veggente come una fiamma un flusso che ha una luce particolare e viene vista ogni volta che ci sono delle relazioni quando un dio qualunque esso sia si relaziona con un altro dio cioè c'è una relazione fra due soggetti c'è una luce particolare dove allo staccarsi dei due soggetti non sono più uguali a prima della relazione ma il fatto che non siano più uguali prima della relazione non è che diminuiscono se stesso aumentano se stesso nella misura in cui hanno la capacità di combattare se stessi nella misura in cui non hanno la capacità di combattare se stessi hanno una diminuzione di se stessi c'è una perdita la relazione del potere di essere e la relazione determinata del potere di avere adesso siamo già ai 19.35 e allora passiamo ancora a un altro discorso sempre con il limite e l'illimite e il misto abbiamo un'altra visione ed è la triade il concetto triadico di cui parliamo necessità intento e volontà dove necessità è il movimento proprio dell'energia vitale l'intento è il passaggio dell'energia vitale dal momento inconscio alla coscienza dall'inconsapevole al consapevole e la volontà è la capacità del soggetto di quel soggetto di sommare alla necessità che l'ha generato la propria volontà per scegliere le opzioni migliori attraverso le quali svilupparsi le opzioni migliori in base a cosa in base alla sua qualità un pesce è una cosa un uomo una cosa una stella è una cosa un essere di energia è un'altra cosa un albero è un'altra cosa ancora ma sommano la propria volontà ci provano nel provarci non so l'albero farà che le radici vanno nel posto migliore dove può assorbire qualcosa il pesce cercherà le acque migliori per riuscire a sopravvivere e generare altri figli l'uomo lo stesso cercherà di adattarsi per costruire delle condizioni migliori per vivere bene queste cose che noi vediamo nella vita di tutti i giorni è il sommare la volontà soggettiva della persona del pesce dell'albero della stella dell'essere di energia di qualsiasi cosa alla necessità che l'ha generato e questo è il farsi dio dell'essere dunque cosa sta facendo Proclo in tutto il suo lavoro Proclo in tutto il suo lavoro sta facendo una operazione spaventosa per sviluppare gli elementi della teologia e cerca di conciliarli con quanto immagina del platonismo se il platonismo in pratica viene immaginato però la vita non viene immaginata c'è la vita di tutti i giorni e allora per riuscire a conciliare l'assoluto il concetto di assoluto il concetto di uno all'inizio dell'universo l'uno che genera gli dèi che genera la natura o che è anche parte della natura perché praticamente l'uno l'assoluto genera la natura secondo Proclo però ogni elemento della natura ogni elemento che viene generato l'assoluto ogni dio è parte dell'assoluto che poi ritorna l'assoluto non c'è modificazione non c'è un arricchimento dell'assoluto perché se è assoluto non viene né arricchito né diminuito e allora a questo punto è costretto a creare una gerarchia nella gerarchia e qua faccio felice al mio amico Franco almeno penso spero non so c'è sopra la gerarchia l'uno secondo posto nella gerarchia ci sono gli dèi due le enadi poi c'è lo spirito spirito che è inteso come essere vita intelletto e al quarto posto c'è l'anima anime divine anime partecipanti perennemente all'intelligenza e anime partecipanti temporaneamente all'intelligenza e questo è solo perché Proclo non riesce a superare quelle che sono le determinazioni platoniche e non riesce a vedere gli sforzi degli esseri mentre si costruiscono nell'infinito non riesce a vedere il passaggio dal feto al bambino dopo vedremo quando parleremo dell'arte hieratica vedremo come se lui avesse visto questo avrebbe compreso anche i movimenti dell'universo perché i movimenti dell'universo cioè i movimenti della formazione della coscienza i movimenti delle cose non è che siano completamente diversi da quelli che i movimenti fisici i movimenti fisici rappresentano degli adattamenti dei soggetti degli adattamenti della coscienza ma la coscienza sempre tende ad adattarsi sempre sempre tende a dilatarsi e a costruirsi e la fisicità sempre tende a dilatarsi e a costruirsi per Proclo l'archè cioè l'archè che cos'è in greco nella filosofia greca l'archè è l'elemento senza il quale non esiste nulla per cui per esempio nella filosofia di Talete l'archè è l'acqua senza l'acqua dice non esiste la vita per cui per Talete l'archè è l'acqua per Proclo l'archè è l'uno è l'assoluto cioè senza l'assoluto dice non esiste niente in quanto dall'assoluto tutto promana noi invece diciamo che l'archè è l'energia vitale inconsapevole che forma la base di ogni coscienza di sé non esiste nulla senza l'energia vitale se diciamo che che il movimento come abbiamo detto all'inizio va dalla coscienza all'incoscienza riformare la coscienza il Brahma non Brahma Brahma possiamo dire che l'archè potrebbe essere quel Brahma che si dissolve ma in quella fase noi non ci siamo esiste un momento in cui l'universo si ricompatta riforma un unico nocciolo un unico elemento ma noi non siamo in quel momento siamo in questa fase noi siamo in una situazione in cui costruiamo la nostra coscienza siamo in questo momento e i movimenti che noi viviamo sono questi per Ploclo il movimento va dall'assoluto al limitato e ritorna all'assoluto per il paganesimo c'è il passaggio dall'inconsapevole al consapevole separato da esso dal limitato separato alla coscienza universale dunque sono due movimenti diversi Ploclo necessita delle gerarchie attenzione quando c'è una gerarchia c'è sempre sottomissione sempre anche se la gerarchia è una sola è solo un'idea è una gerarchia filosofica cioè quando diventa nella pratica va sempre a generare sottomissione va sempre a creare una situazione di dipendenza dalla gerarchia sempre esistono dei filosofi esistono delle persone che hanno un potere tale che effettivamente vedono delle cose le trasportano nel quotidiano le danno anche una valenza gerarchica però non si sottometterebbero mai a quella gerarchia quando quelle persone muore muoiono e arriva qualcun altro a riprendere in mano il loro lavoro lui sottomette la gerarchia perché non ha né il potere né la conoscenza né la capacità di alterare la percezione per andare là dove era andato quello che aveva costruito quella filosofia per cui ogni volta che noi costruiamo una gerarchia costruiamo sempre sempre sottomissione anche quelli che dicono Dio non ha barba il Dio padrone non ha barba non si è quel biblico si è un'altra roba si è quel c'è sempre il tentativo di costruire una gerarchia e di costruire una dipendenza c'è anche il tentativo di staccarsi da una dipendenza per spostare i limiti più in là per cui certamente passare dalla concezione del Dio biblico all'essere assolutamente necessario all'inizio dell'universo a un assoluto che però non interviene nelle azioni umane è un grandissimo passo avanti lo riconosco perfettamente però comunque questo ritorna indietro come riflesso e va a ricostruire un'altra gerarchia per Ploclo necessita le gerarchie divine anziché la qualità divina del potere di essere come invece nel paganesimo vediamo un attimino alcuni teoremi proposti da Ploclo alcuni teoremi degli elementi di teologia dal 14 al 22 vediamo qui ho segnato qualcosa sì attenzione dice e vi dico solo i titoli dal 14 al 22 così potete farvi un'idea degli elementi trattati dato un rapporto 3 a 2 tra il corpo più veloce e quello più lento si mostri che non ci sono linee indivisibili l'istante presente è il medesimo rispetto al passato e al futuro l'istante presente è senza parti ogni corpo che si muove si muove in un intervallo di tempo ogni corpo inquiete e inquiete in uno spazio di tempo ogni corpo che si muove è divisibile se le parti di un movimento qualsiasi costituiscono un movimento no questo l'ho sbagliato questo è un movimento di fisica che errore che errore madonna tornare allora la struttura gerarchica della realtà tutto ciò che esiste o è primo di movimento o è soggetto a movimento se è soggetto a movimento o si muove da sé o è mosso da altro se si muove da sé è dotato di movimento proprio se è mosso da altro si muove grazie all'intervento di una forza esterna ogni cosa dunque o è priva di movimento o è dotata di movimento proprio o si muove grazie all'intervento di una forza esterna e qui cominciamo a costruire le gerarchie in base al movimento ancora tutto ciò che ha la proprietà di ritornare a sé stesso è incorporeo tutto ciò che è in grado di ritornare a sé possiede un essere separato da qualsiasi corpo tutto ciò che muove se stesso ha come proprietà prima il rivolgersi verso se stesso tutto ciò che è dispensatore grazie al suo essere nei confronti di altri esseri è esso stesso in linea primaria ciò che comunica agli esseri che da esseri ricevono tutto ciò che inserisce in linea primaria a un ordine degli esseri è presente in tutte le cose che rientrano in quell'ordine secondo un'unica definizione e in modo uguale l'essenza dell'anima è al di là di ogni corpo così come la natura intellettiva è al di là di ogni anima e l'uno è al di là di tutte le ipostesi intellettuali ogni ordine si espande avendo il suo principio in una monade in una molteplicità che costituisce un'unica serie con la monade inoltre la molteplicità di ogni ordine risale a un'unica monade tutto ciò che è come principio primo in ciascun ordine è unità e non più né più di due ma è tutto monogeno in pratica con tutti questi discorsi cosa abbiamo detto semplicemente che esistono degli elementi secondo Proclo attraverso i quali costruire una gerarchia una gerarchia divina che alimenta che dà movimento che dà il ritorno a se stesso non esiste per Proclo il processo di costruzione non esiste il processo di unità uno della coscienza che arriva a unità universo unità miliardi questo processo non esiste perché per lui non esiste la possibilità di accumulazione della conoscenza della consapevolezza ma tutto è dato e tutto è predefinito fin dall'inizio perché dall'uno è perfetto e dall'uno tutto promana vediamo come abbiamo tutti i germi del cristianesimo sono assolutamente presenti in questa struttura dottrinale ed è l'ultimo paganesimo ricordiamocelo questo infatti Proclo separa le enadi da ogni altro essere della natura le enadi le definisce in questo modo allora vediamo un attimino come definisce le enadi cioè gli dei Proclo a pagina 141 CL vediamo un attimino come definisce le enadi Proclo 141 le definisce esattamente come ve l'ho descritto prima è esattamente la pagina che avevo letto prima sono tutte le qualità delle enadi che sono delle qualità gerarchiche cioè qualità che determinano una gerarchia dell'enadi su cosa sugli esseri della natura sullo spirito sull'anima sulla coscienza cioè lui praticamente separa l'anima che sarebbe la qualità del corpo luminoso la qualità dell'essere Dio da quello che è la sua coscienza da quello che è il suo spirito da quello che è la sua vita nella natura per il paganesimo ogni coscienza di sé è un Dio che dilata se stesso nel limitato nell'illimitato ha necessità bisogni e tensioni l'essere umano riconosce gli dèi quando quegli dèi si sviluppano dentro di lui lo sviluppo dentro di lui lo abbiamo descritto nel crogiolo dello stregone ma una cosa simile al crogiolo dello stregone sono le virtù di Proclo cioè Proclo si accorge che per arrivare agli dèi per arrivare al divino è necessario costruire il divino dentro di lui e costruisce un sistema di virtù proviamo a vedersi questo sistema di virtù di Proclo 278 no perché c'è mezzo libro con numeri romani e mezzo libro con numeri italiani no? allora le virtù da Proclo sono intanto le divide praticamente in sei in sei in sei parti no? nella prima parte abbiamo le virtù quelle che chiamano virtù naturali e le divide in virtù del corpo e in virtù dell'anima le virtù del corpo sono accuratezza dei sensi soprattutto della vista e dell'udito ricordate quando io ho parlato nel crogiolo stragone della contemplazione bene questo è contemplazione le virtù dell'anima facilità nell'apprendimento a memoria e coraggio temperanza giustizia grandezza d'animo grazia e verità cioè le virtù dell'anima sono facilità dell'apprendimento a memoria c'erano delle tecniche di apprendimento mnemonico che erano eccezionali queste fra le altre cose furono una causa della condanna di Giordano Bruno mentre quello che lo ha denunciato voleva la magia spiccia voleva la magia alla cristiana cioè come i cristiani intendono la magia lui una delle forme che gli ha dato di magia era l'apprendimento mnemonico e a questo qua non gli è bastato voleva qualcos'altro e poi ci sono il modo di affrontare la vita cioè il modo di affrontare le contraddizioni della vita ci vuole coraggio ci vuole temperanza ci vuole giustizia ci vuole grandezza d'animo ci vuole grazia e verità essere uguali in questo caso è essere uguali a se stessi e questo è il primo passo delle virtù naturali vediamo il secondo che chiamano virtù etiche e non vengono specificate ma sono le virtù naturali trasformate trasportate nella vita civile cioè nella vita sociale il che vuol dire che il coraggio la temperanza la giustizia la grandezza d'animo la grazia e la verità dell'essere umano deve essere trasportata nel sistema sociale in cui vive poi sono le virtù politiche politiche come polis e anche questo è la stessa roba giustizia sapienza temperanza coraggio liberalità grandezza d'animo sentimenti di solidarietà e amicizia abbiamo sempre gli stessi elementi delle virtù naturali però trasformati in oggettività diverse un conto è se io sono da solo con me stesso un conto è se io sono da solo con altre persone con cui parlo con cui manifesto me stesso un conto è se io ho delle cariche politiche delle cariche pubbliche un conto è se io affronto il lavoro il datore di lavoro o altre cose un conto è se io ho della ricerca scientifica eccetera in tutti questi ambiti diversi mantengo le stesse qualità e le stesse virtù e poi ci sono le virtù catartiche assiduità nelle pratiche religiose e ascetiche moderazione imperturbabilità e autocontrollo sapienza temperanza fortezza e giustizia ricordate che anche nel cristianesimo ci sono queste ma ci sono queste in funzione di cosa? non in funzione dell'essere umano che diventa un dio e che guarda il mondo ma sono in funzione del assoggettarsi a dio padrone per cui i significati la significazione e in cosa si praticano queste cose diventa completamente diversa e abbiamo le virtù contemplative sapienza superiore giustizia temperanza e fortezza cosa significa questo? che quando io altero la percezione devo avere queste qualità poterle proiettare in mondi e percezioni diverse e infine le virtù teurgiche assiduità nella pratica della teurgia caldaica per arrivare all'unione mistica col dio familiarità partecipazione al divino in realtà l'assiduità nella pratica della teurgia caldaica per arrivare all'unione mistica col dio sarebbe pratica del crogiolo dello stragone per arrivare a chiamare l'idea del circostante il divino circostante e indurlo a camminarci a fianco riconoscere noi stessi in quanto dio e costringerlo a camminarci a fianco questa è la virtù teurgica queste sono le virtù di Proclo ma prima di concludere ancora le differenze e le cose che ci avvicinano passiamo all'ultimo capitolo importante di Proclo ed è l'arte hieratica perché dico che è importante perché l'arte sacerdotale è un'arte che prima o poi dovremmo tirare fuori anche noi ed è importantissimo vedere un attimino su cosa si basa l'arte hieratica di Proclo perché questo ci permette di vedere le differenze concettuali che abbiamo e nello stesso tempo le cose che ci assomigliano per esempio nell'arte hieratica il primo capitolo dice il principio metafisico della simpatia universale come fondamento dell'arte hieratica simpatia sta per stimolo che dal divino circostante giunge alla ragione per svilupparsi una cosa a me mi è simpatica anche nel modo di dire comune quando quella cosa è in sintonia col mio sentiero col mio fare con i miei bisogni o almeno una parte di essi o almeno un aspetto di essi se io faccio delle cose per simpatia significa che quando agisco nell'arte sacerdotale cioè nell'arte del chiamare gli dei in un certo modo nel fare di tutti i giorni nella materialità di tutti i giorni mescolo anche l'energia vitale e indirizzo l'energia vitale nella direzione in cui lavorano gli dei ma attenzione perché faccio questo attraverso uno strumento che è dentro di me ed è l'attenzione attraverso l'attenzione attraverso la capacità di concentrare tutto me stesso mi trasporto nelle azioni le azioni che faccio manipolano l'attenzione e l'attenzione si rivolge al divino un esempio di questo di arte simpatica dice per esempio il girasole gira sempre verso il sole e non è forse questo il motivo per cui il girasole si muove in sintonia con il sole in sintonia con la luna compiendo la propria rivoluzione nei limiti delle proprie possibilità insieme con le lampade del mondo infatti tutte le cose a livello che è loro proprio dice attenzione e qui la differenza fra noi e il paganesimo pregano e inneggiano ai termini primi delle serie universali no non è vero si allineano per costruire se stessi si allineano adattandosi a quanto incontrano per meglio costruire loro stessi allora anche noi anche noi possiamo allinearci scegliere per costruire al meglio noi stessi questo è il senso primo di quest'arte oppure a capitolo 3 il principio metafisico della somiglianza come connessione teurgica degli esseri fra loro la somiglianza come connessione teurgica degli esseri fra loro per esempio abbiamo una medicina spargirica cioè se una cosa somigliava a un'altra cosa poteva essere usata per esempio la polmonaria può essere usata per alleviare certi dolori dei polmoni perché diceva quello che ha trovato perché le foglie della polmonaria somigliano ad alveoli polmonari fatalità funziona cioè fatalità per alcune cose chiaramente non cura polmoniti però alcune cose il succo da polmonaria può essere usato per questo ci sono un'altra pianta che ha il fiore che assomiglia a un occhio questa è una scoperta di Paracelso e con quella piantina si può curare gli occhi e Paracelso diceva si può curare gli occhi perché l'occhio è simile se esistono delle similitudini che possono essere usate esattamente come la similitudine della trasformazione dal feto all'essere umano può essere usata per comprendere i meccanismi con cui l'energia vitale costruisce il Dio e ancora tutte le cose sono teoricamente ricolme di dei no gli dei sono ovunque ma li riconosco in quanto sviluppati dentro di me c'è la mia capacità di sviluppare il Dio che mi cresce dentro di costruirlo di allevarlo di costruire i migliori adattamenti possibili che mi permette di riconoscere quelli dei e solo quelli dei gli altri non li riconosco quando non sono sviluppati quando il divino non è sviluppato dentro di me quando il divino non è sviluppato dentro gli esseri umani o dentro gli esseri della natura si determina la separazione fra l'essere e il divino che lo circonda e questa è l'arte della magia nera la magia nera separa l'individuo dal divino che lo circonda trasforma l'individuo in bestiame del grece e infine andiamo avanti come i teurghi creano commistioni di simboli prima divisi costruendo me stesso costruisco la relazione con gli dei e il rito costruisce la determinazione del mio fare per costruire la relazione col divino che mi circonda il rito costruisce la determinazione del mio farmi dio e ancora come l'arte ieratica congiunge ai poteri primi e divini il divino che sviluppa in me si congiunge quel divino simile fuori da me per simpatia il divino che cresce dentro di me chiama il divino uguale che è fuori lo chiama per alimentarlo perché solo se il divino alimenta il mio divino dentro può alimentare se stesso e allora se un giorno noi faremo un'arte ieratica cioè costruiremo un'arte sacerdotale dovremmo tenere presente tutti questi principi questi principi sono assolutamente logici partendo da tutti i presupposti quella che è la filosofia neoplatonica non sono assolutamente logici e vanno a individuare dei caratteri precisi della realtà partendo da dei concetti a priori propri dei neoplatonici che pescono la filosofia platonica cioè non sono dei principi in contraddizione con la vita ma sono degli adattamenti soggettivi che fa il filosofo per adattare ciò che lui pensa ciò che lui immagina alla vita di tutti i giorni questo è l'eccezionalità di questo lavoro il lavoro di Proclo è preziosissimo perché a noi ci consente di chiarire tutte le differenze che esiste fra la costruzione del paganesimo nostro e la costruzione del paganesimo procoliano gli oracoli caldaici furono commentati da Proclo solo dal punto di vista culturale legandoli al platonismo infatti quando Proclo chiede a Siriano di commentare gli oracoli caldaici Siriano vecchissimo muore e gli lascia gli oracoli caldaici senza i commenti Proclo si deve arrangiare a prendersi i commenti pescando da quella che è la filosofia platonica e questa è la sconfitta della stragonaria per quanto riguarda la sfida che è interpretativa con gli oracoli caldaici vi ricordo che è in corso io ci sto lavorando sto costruendo la nuova interpretazione degli oracoli caldaici e questa va avanti scusate un attimo solo finisco un attimino la trasmissione visto che stanno ritardando un attimino i ragazzi no? ed è sintomatico questo è sintomatico l'episodio che vi ho raccontato all'inizio Proclo va ad Atene e il custode dell'accademia dice se tu non fossi arrivato io avrei chiuso bene io oggi posso commentare gli oracoli caldaici grazie ai frammenti che sono rimasti in Proclo e a pochi gli altri per cui io posso prendere in mano la sfida posso lanciare la sfida proprio perché è esistito Proclo Proclo muore il 17 aprile del 485 l'accademia di Atene fu chiusa per ordine dei cristiani nel 529 con la proibizione ai pagani di insegnare pena la morte l'accademia di Atene che fu fondata da Platone nel 387 chiude nel 529 dopo 900 anni dopo 900 anni l'accademia platonica chiude e quando chiude l'accademia platonica è da considerare la fine del paganesimo ricordo ancora io sono sempre d'accordo con i sacerdoti egiziani i greci erano dei bambini erano degli ingegni e questo sono perfettamente d'accordo con loro loro non vedevano le trasformazioni non vedevano la costruzione dovevano per forza riuscire a costruire delle teogonie diverse eppure negli inni orfici è abbastanza chiaro che all'inizio c'è l'uovo che viene messo incinto da Eros e si espande nell'universo eppure da questo non sono riusciti a costruire nessuna struttura filosofica però tutti i paganesimi partivano dalla capacità dell'essere umano di percepire il divino che li circondava la capacità dell'essere umano di farsi Dio bene io ho riattaccato il telefono in questo momento chiaramente non prendo telefonate perché vado via ho finito di fare quel parallelismo che mi interessava ho letto gran parte di questo libro in quattro giorni pretendo di fare una relazione un parallelismo fra due sistemi filosofici in quattro giorni è da fuori da pazzi e anche da idioti però io l'ho fatto io faccio tante idiozie una più una meno bene vi do appuntamento per giovedì prossimo alla stessa ora vi ricordo che alle ore 15 sono in trasmissione con trasmissione magia stregoneria e paganesimo pronta? è stato chiarissimo professore e vi trovo alle ore 15 con la trasmissione magia stregoneria paganesimo e alle ore 19 riprenderò la trasmissione leggendo ciò che porta a diventare italiani nella regione romana salvo altre cose grazie per avermi ascoltato vi ricordo che sono Claudio Simeoni piazzale parmesà 8 Marghera Venezia grazie per ascolto e dalla prossima trasmissione vi darò l'indirizzo del sito internet in cui potrete trovare i pagani e i concetti pagani e potete anche copiarli grazie ancora e arrivederci al prossimo giovedì